signori signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine solito usuale inevitabile della mia libreria allora il bello di fare un mestiere come il mio è quello che si ha un pochino di tempo libero per girare per bancarelle girare per mercatini e trovare libri interessanti in giro libri che magari è da tempo che non sono più ristampati è il caso di questo libro di lodovico barbiano di bel gioioso notte e nebbia un libro che ci racconta la storia l'avventura le vicende la vita dell'autore di lodovico barbiano di bel gioioso dell'architetto lodovico barbiano di bel gioioso nell'inferno dei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale ma chi era lodovico barbiano di bel gioioso è nato a milano nel 1909 laureatosi in architettura da avvio con gian luigi banfi enrico peressutti ed ernesto natan rogers allo studio professionale bbpr fondato sulla solidarietà umana e sulla finità culturale che unisce i quattro giovani durante gli anni trenta banfi bel gioioso peressutti e rogers si distinguono per l'impegno verso l'architettura moderna mentre matura in loro l'opposizione al partito fascista la dissidenza si fa più forte nei primi anni del conflitto bel gioioso così come i compagni dello studio aderisce al partito nazione mentre ernesto natan rogers espatria in svizzera perché era ebreo l'impegno degli altri continua fino al 21 marzo 1944 quando banfi e bel gioioso sono arrestati e tradotti al carcere di san vittore dove sono deportati prima a fossoli e quindi a gusen un campo sussidiario insomma un campo ausiliario di matthausen qui il 10 aprile 1945 muore gian luigi banfi poco prima dell'arrivo delle truppe americane che entrano nel campo il 4 maggio liberando tra gli estremati prigionieri bel gioioso allora dopo lo studio dopo la guerra lo studio bbpr ottiene vasta considerazione grazie all'attività professionale didattica ed editoriale dei suoi tre membri alcune opere tra cui la torre dell'asca hanno un ruolo essenziale nell'architettura del ventesimo secolo dagli anni cinquanta bel gioioso contempera la ricerca professionale con l'impegno civile e culturale dapprima svolgendo un ruolo preminente nel dibattito sulla ricostruzione e quindi impegnandosi nei grandi temi della trasformazione di milano è stato membro tra l'altro della royal society of arts di londra e dell'american institute of architects ed è stato uno che fino alla morte nel 2004 ha collezionato premi 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 su premi per la sua attività come architetto insomma in pratica il l'architetto lodovico barbiano di bel gioioso e il suo studio bbpr sono stati tra i protagonisti dell'architettura italiana del del ventennio e tra i protagonisti dell'architettura italiana della ricostruzione tant'è per non saperne leggere né scrivere lo studio bbpr ha progettato uno dei simboli della milano moderna la torre dell'asca ma allora questo libro praticamente ci racconta che nel marzo 1944 un giovane architetto milanese che da tempo conduce una doppia vita tra studio e attività clandestina antifascista viene arrestato mentre rientra a casa e condotto a san vittore da qui passerà a un campo di prigionia italiano cioè fossoli che tuttavia è solo una tappa nell'inevitabile viaggio verso il lager prima mauthausen e poi la vicina gusen inizia la lunga notte della deportazione la durissima lotta per la sopravvivenza in mezzo all'orrore per molti e tra essi tanti amici si concluderà con la morte per altri come il protagonista e autore di questo racconto la sofferenza immane dell'isolamento della fame delle violenze subite delle malattie delle perdite dell'aspettativa angosciosa di nuovi dolori terminerà quasi d'improvviso insperatamente all'arrivo delle prime auto militari alleate nel campo ma per lasciar posto a una nuova ferita dell'animo che continuerà ad affiorare ad ogni risveglio della memoria e questo è anche il sentimento presente in questo racconto che lodovico barbiano di bel gioioso ha gettato sulla carta negli anni immediatamente successivi alla liberazione e poi ripreso e completato a distanza di 50 anni dagli eventi il suo libro certo una delle ultime testimonianze dirette che ci sarà dato di leggere sul lager e sullo sterminio sembra correre nell'accumularsi delle violenze delle morte degli strazi lungo una linea tutta interiore un atteggiamento di difesa della propria libertà di pensare e sentire un ostinata fiducia nella possibilità di salvare se stesso e gli altri attraverso l'esercizio costante della dignità esercizio non facile anzi difficilissimo il libro di bel gioioso non è un racconto moralistico di comportamenti esemplari è una storia di atrocità in cui gli asserviti i condannati i sofferenti rischiano di continuo di emulare forzatamente i persecutori ma è allo stesso tempo la cronaca di una lotta strenua per evadere interiormente dal campo lodovico barbiano di bel gioioso notte nebbia racconto di gusen un uomo straordinario un genio dell'architettura uno dei più grandi architetti italiani di tutti i tempi che ci racconta la sua terribile storia la sua terribile avventura nei lager tedeschi corredando il libro con alcuni schizzi autografi eccone qua alcuni con alcuni schizzi che illustrano la vita le fatiche la miseria della vita nel lager un libro questo di barbiano di bel gioioso che ci mostra ci racconta che cos'era la vita nel lager che cos'era il dolore l'abbruttimento la bestialità di quella che è una macchia nella storia dell'umanità il lager i campi di sterminio una cosa inenarrabile indescrivibile bel gioioso prova a raccontare quello che ha visto prova a raccontare quello che ha vissuto e ci fa partecipi di un'esperienza spaventosa che dobbiamo veramente ringraziare in ginocchio ogni giorno di non avere mai visto di non avere mai vissuto perché era una cosa fu una cosa terribile insomma cari signori se lo recuperate io ve ne consiglio caldamente la lettura lodovico barbiano di bel gioioso notte nebbia racconto di gusen la storia di un italiano e sottolineo di un grande italiano nell'inferno dei lager nell'inferno che voleva cancellare la sua umanità l'umanità dei suoi amici l'umanità delle vittime dei lager per loro per tutti coloro che sopravvisso le lager sopravvivere spesso fu una colpa ne parlava anche primo levi e dalle parole di barbiano di bel gioioso si sente il dolore forte feroce crudo come il primo giorno della memoria la memoria la memoria un libro eccezionale oserei dire per la per la tensione per la partecipazione che barbiano trasmette al lettore un libro che consiglio caldamente a tutti quanti di leggere ecco un'altra delle immagini di ludovico barbiano di bel gioioso un altro degli schizzi il trasporto dei cadaveri verso il forno crematorio una vicenda quella di quella di barbiano di bel gioioso che racconta la tragedia la mostruosità la ferocia dei lager nazisti la miseria a cui erano ridotti gli uomini la memoria la sofferenza la durezza la ferocia della memoria che torna a colpire nel corso della vita di un uomo di un grande uomo di un grande italiano quindi cari signori se vi capita ludovico barbiano di bel gioioso notte nebbia racconto di gusen un grande libro un libro da leggere un libro scritto in maniera cruda in maniera diciamo estremamente coinvolgente ripeto da uno dei grandi italiani di questo secolo ludovico barbiano di bel gioioso tutto qua quindi cari signori io come sempre aspetto le vostre considerazioni come sempre ci sono i commenti come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao